Fratelli d'Italia, primo partito del centrodestra in Campania. Voglio ringraziare tutti i candidati, i dirigenti che sono stati in campo come se lo fossero, il nostro leader Giorgia Meloni che è venuta ben tre volte coprendo tutte le province della nostra immensa regione. Siamo rammaricati del risultato che non ha premiato il centrodestra ma Fratelli d'Italia rappresenta oggi la locomotiva per una politica di cambiamento, per costruire una nuova Campania e un centrodestra nuovo che sia capace di mettere in campo energie di donne e di uomini che vogliono scrivere un futuro diverso. Molto positivo anche il dato delle amministrative con la conquista di sindaci di nostra diretta espressione e con le nostre liste che confermano anche a livello territoriale di essere prima forza politica del centrodestra.